Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, siamo L'Oramix a Milano Io è il mio primo iscritto ragazzi, siamo a L'Orca Comics Siamo appena entrati all'Expo Bela raga, siamo all'Expo, qua ex-fans Monster Jill B e Monster Blade E invece no, è Monster Rampage Saluta? Un saluto per i fan Saluto Maifracchio Allora saluto Maifracchio un mio amico Da poco si è confessato, gay ragazzi Ho fatto coming out pure con Youtube Non so se si sente Si si sente Vabbè ci aggiorniamo dopo raga ok No Mandiamo a farci qualcuna Bella a tutti ragazzi Ma andiamo a farci qualcuna poi Ci becchiamo dopo Facciamo qualche partitina alla play Ciao ragazzi Ma senti che è proprio un bel giorno Ma bello Ma che cosa è questa? No ma è sconfatto Quindi è un brutto giorno ragazzi No no non niente Ma non siamo nel centro del vero Forse non ce l'ha capito Ma dove siamo entrati prima già? Ma l'angola Eh sì forse sì È sudano un po' tanto Freddo forse Fa freddo in realtà Bastanza Cioè non tantissimo Ci becchiamo al prossimo stand raga Bella raga È sempre bella la torre di Pisa Ok è sempre bella Tutti i ragazzi sono Quale sono? Dei 13 e 12 Sono o sei? Dipende Dipende dalle volte Vabbè siamo quasi allo stand Stand di Melagodo Stand di Melagodo Stiamo aspettando il prof No è lui che aspetta a noi È lui che aspetta a noi Perché dovremmo essere all'una e mezza Lì all'albero della famiglia E invece? All'albero la piazza Piazza del Piazza del Piazza del Piazza del Piazza del Piazza Italia Oh my god Oh my god Bella raga, siamo nello stand del Marocco Valla, valla Finché non esplode Finché non esplode Spero che ci vada tutto bene Speriamo Ci vediamo alla prossima attrazione Bella Bella Tutti ragazzi, adesso si mangia Si mangia e si beve Alcolici raga E' assenso sotto forma di acqua Esatto C'è anche l'acqua lì Voi non la potete vedere perché Non c'è la tua fotocamera Aspetta, faccio così Faccio così Luca Comics Luca Comics, abbiamo visto Joe Joe, Jimbo Brat, Jambor Il trailer l'abbiamo visto Passate dal suo canale per la reaction E' passata dal suo canale per il pene E' un bel pene Noi mangiamo e ci vediamo al prossimo padiglione Bella raga Bella raga Fai un po' vedere il Big Bang di Londra Il Big Bang Brat Vabbè, noi lo facciamo vedere Nel dubbio Sì Nel dubbio per vedere un po' il video Sì Nel dubbio per vedere un po' il video Sì Nel dubbio per vedere un po' il video Vabbè Eh? Sì Siamo a Londra Ci siamo trasferiti da Boco Per clippare un po' di più Ah ecco Quindi Ma in realtà Brat non ha Qui testa dai Bang Boh non lo so Vabbè La notifica diceva quello Vabbè Abbiamo appena mangiato Ma aspetta ma Qui non siamo a Ex Po Siamo a Ex Tevere Beh sì Dipende in che regione Ah ok Perché il Po è in Lombardia Sfocia in Lombardia Sì Mentre il Tevere sfocia nel Molise Anche se non esiste Non è Molise Non lo so No perché esiste Quindi se Molise esiste È Molise Vabbè andiamo in un altro padiglione Andiamo a vedere in padiglione Del Regno Unito dopo Anche se è un pochino diviso Però vabbè Dipende Diciamo che non c'erano tanti clipper E ci gioiniamo dopo Ci gioiniamo dopo Vabbè Ciao raga Bella raga Sono le sette La giornata sta per finire E ci troviamo qui Oggi dove siamo? Boh siamo a Milano Milano! No Vabbè Non copiare l'ambito Dai buon basta Siamo stanchissimi Abbiamo cambiato troppo Stavolta bello fresco Abbiamo visto troppi padiglioni Adesso Editerò il video No io editerò il video Vabbè Sì ovvio Ho visto che le clip sono due Infatti Lui è un coglione E noi ci vediamo alla prossima Bella No non ci vediamo Bella